Leonardo Silva Revisore Aveva di nuovo sognato le parole. Le accadeva spesso quando passava la notte a Lanzo. Una successione di lettere che sbocciavano una dopo l'altra mentre dormiva e nessuna catena logica a guidarle. Le parole generate da quelle lettere sfilavano come su un nastro e si rincorrevano dando forma a frasi incomprensibili, risultando oscure anche al risveglio. Talvolta, appena spalancati gli occhi sul mondo reale, si sforzava di riacciuffare brandelli di senso. Concentrandosi le sembrava di riconoscere una conversazione sentita durante il giorno e riemersa nel dormiveglia, qualche riga studiata la sera prima, oppure un appunto preso distrattamente sul quadernone ad anelli. Le facevano visita, di frequente, le parole. Anche quel mattino di inizio novembre galleggiavano nella stanza, come bolle di sapone pronte a dissolversi. Da quando la scuola era ricominciata, le giornate erano scandite dai paradigmi in inglese, da mandare a memoria, e dagli esercizi di geometria che tanto la tormentavano. Era una studentessa diligente, che non ambiva essere la prima della classe, anche se fin da piccola le maestre dicevano fosse più matura della sua età. Un destino curioso per chi, come lei, era nato prematuro. Qualcuno diceva che i settimini fossero condannati a un futuro infelice. Ma Sonia no. I genitori, o per meglio dire la madre, conscia di quella precocità, l'avevano a suo tempo iscritta alla primina. Il vantaggio che aveva sulla maggior parte dei coetanei, quando si trattava di studiare, sbiadiva di fronte alle cose più pratiche. Ma lei si accontentava di portare a casa buoni voti che non facessero arrabbiare i genitori. La casa della nonna era fuori dal centro abitato, sulla strada che si inerpicava per le montagne. L'Anso Torinese. Chissà chi l'aveva battezzato così, visto che si trovava a una quarantina di chilometri dal capoluogo. Era un paese di provincia simile a tanti altri e delle valli all'intorno. I vicini erano Sergio e Ciglia, un'anziana coppia che abitava le stanze che un tempo avevano ospitato una fucina. A fianco della cuccia di Baldo, il loro cane, si trovava un mulino ancora funzionante, anche se ormai nessuno più lo usava per forgiare il ferro o lavorare il rame. Le volte in cui dormiva dai nonni, così si ostinava a dire sua madre, anche se nonno Deglio era morto da sette anni, e così aveva imparato a dire Sonia, si addormentava ascoltando il lamento dell'acqua che precipitava sulle palle del vecchio mulino. Il getto del torrente cadeva instancabile, muoveva la ruota producendo un suono dolce che conciliava il sonno e niente più. Una notte dopo l'altra, Sonia veniva cullata da quella personale ninna nanna. Adorava il bozzolo in cui la intrappolava nonna Ada. Le estremità della coperta finivano sotto il materasso insieme alle lenzuola. Il sacco! Così lo chiamava mentre, con fare deciso, sistemava il letto dopo che Sonia ci era scivolata dentro come un foglio in una busta. Poi la nonna spegneva la luce senza tanti complimenti, chiudeva la porta a soffietto che separava le due stanze e si ritirava in camera sua. Sul sussidiario Sonia poteva restare interi minuti a osservare le fotografie dei sarcofaghi dell'antico Egitto. Così nel letto giocava a fare la mummia. Teneva i talloni aderenti al materasso orientando i piedi verso l'alto, le gambe strette perfettamente allineate e gli alluci che gonfiavano le coperte come due collinette gemelle. Con le mani si cingeva le spalle, le braccia a formare una X sul petto, finché il respiro un po' alla volta si faceva più regolare. Nessuna minaccia mai l'avrebbe raggiunta in quella camera da letto, la stessa dove aveva dormito la madre quando aveva la sua età. Nessun mostro che abitava nel buio avrebbe potuto rapirla per condurla nella sua tana. Lì Sonia si sentiva protetta. Buonasera. Bentrovati. Mi sentite, sì. Siete tantissimi. Io sono particolarmente felice di essere qua perché sono da poco arrivata a Torino, vivo qui da pochissimo, e so anche che accompagno Marco in una serata speciale perché questo libro viene al mondo oggi. E poi Marco è una persona alla quale io sono legata da banali ragioni professionali perché secondo me Marco fa un lavoro simile al mio. perché oltre ad essere uno scrittore lo sapete Marco è un editor e quindi è quello che sceglie le storie. Scegliere le storie è complicato. Io faccio la giornalista e capire quando una storia ha valore e ha un valore di narrazione è molto complicato. e poi c'è la fase del che cosa questa storia può interessare a chi può interessare, in che modo può interessare. Quindi ecco, la mia presenza stasera è complicata da un'emozione data da questa affinità unitamente al fatto che questo è un libro che io ho amato perché mi ha divertita. che è una cosa il divertimento per me è la parola più alta del vocabolario lo intendo in modo molto composito però è un libro che non mi aspettavo da Marco non perché sia un libro di genere io non penso che sia un libro di genere ma proprio perché è un libro pieno di storia di storie e che racconta una realtà magica ma anche profondamente reale molto simile a quella da cui io vengo io vengo da un piccolo paesino lucano dove le maciare così come le vostre masche sono fondamentali è molto difficile capire su quale piano dobbiamo stare per parlare di questo romanzo io vorrei stare sul simbolico perché il piano simbolico è quello che mi consente di più di godermi la libertà del lettore quindi di interpretare senza risultare arbitraria però la cosa facciamo così cerchiamo di orientarci un po' allora se io ve lo dovessi sintetizzare secondo me questo qua è un libro certamente sull'infanzia ma è un libro su una cosa particolare su un fatto particolare che succede quando gli adulti si ritirano che è una distopia abbastanza frequente per alcuni per me personalmente è un sogno a un certo punto finiscono gli adulti e qui succede che quando gli adulti spariscono non si può dire ovviamente perché perché tu non si può dire la parola esatto qui sarà complicato perché dobbiamo lasciare delle tracce non si può spoilerare come si dice no però gli adulti spariscono e viene da pensare che viene meno la razionalità e invece qui succede il contrario gli adulti spariscono o succede qualcosa di terribile agli adulti e una forza ordinatrice che ha a che fare con la magia interviene e fa posare il caos e a monte di questo processo ci sono dei bambini c'è Sonia che è la bambina degli anni 90 perché questo è un libro che succede negli anni 90 e questo lo condividiamo perché noi siamo stati bambini negli anni 90 la precocità quante volte io non so adesso se anche voi siete stati bambini negli anni 90 vedo poco quindi però era una cosa tipica me lo ricordo si diceva di tutti tutti i bambini erano tutti precoci tutti quanti adesso no perché invece sono tutti quanti così avanti questi ragazzini che nessuno se lo aspetta lo dice più però all'epoca era un tratto e insomma c'è questa Sonia che è la vera secondo me la saggia del romanzo quello che convoglia le forze della razionalità e della magia che sono molto vicine ed è una storia ambientata in provincia negli anni lo dicevamo poco fa con Marco negli anni in cui l'adolescenza in questo paese è stata violenta sono gli anni delle bestie di Satana all'incirca gli anni in cui in provincia per divertirti osservavi il satanismo c'era questa cosa osservavi l'esoterismo e dialogavi quando eri molto piccolo con le storie oscure le storie delle nonne allora da dove partiamo perché ovviamente questo è un romanzo che diremo la classica cosa che si dice autobiografico romanzo totalmente autobiografico totalmente autobiografico anche se tu lo leggi non lo penseresti cioè è l'ambientazione che è ovviamente autobiografica però c'è qualche cosa di più tanto grazie al circolo dei lettori a Bompiani a te Simonetta per questa chiacchiera che mi emoziona molto voglio arrivare subito proprio al dunque all'osservazione finale che hai fatto sì è un romanzo che per quanto mi riguarda che nel mio percorso arriva dopo un libro che aveva in realtà una matrice strettamente autobiografica che era quella dell'invenzione della madre su cui riflettevo su qualcosa che traslato ma in maniera molto prossima riguardava la mia la mia storia privata e Morsi ha a che fare in un modo diverso ma in qualche maniera complementare e parente con con il mio libro precedente perché non soltanto sono stato un ragazzino alla fine degli anni 90 poi in realtà Sonia la protagonista del romanzo quella che per me è davvero la protagonista e come ti raccontavo poco fa io mi sento molto lei cioè io sono Sonia anche se poi il romanzo è biforputo e quindi si divide soprattutto fra due personaggi che hanno più o meno la stessa età 12-13 anni Sonia e Teo Savant mi sento più vicino a lei perché a lei ho dato qualcosa che mi appartiene in modo molto profondo e intimo io rispetto ai miei protagonisti in quegli anni lì ero leggermente più grande quindi questa cosa che tu ad esempio dicevi delle bestie di Satana o che a Torino aveva a che fare con l'esoterismo che era un tema tuttora anche con un eco molto lontana molto presente culturalmente molto attivo nel discorso pubblico era qualcosa che ci riguardava e dico ci a noi persone che abitavamo in provincia fino a un certo punto perché arrivavano delle piccole influenze ma poi di fatto questa roba non accadeva mai perché la provincia ed è uno dei temi su cui mi interrogo da un po' di tempo e che mi incuriosiscono sempre tantissimo è il punto di vista eccezionale rispetto al quale da un'altezza che in realtà ha un punto basso che però lo provi ad elevare e atterrare più su in alto riesci ad osservare il mondo che ti circonda con un distacco che in realtà è una vicinanza perché nella provincia non soltanto tutti quanti gli attori che si agitano in questo piccolo presepe in questo piccolo teatro hanno a che fare gli uni con gli altri in maniera molto stretta come accade in tutte le comunità umane ma nella provincia c'è un recinto che rinchiude tutti quanti con una vicinanza tale per cui non soltanto tu sai esattamente che cosa fa il tuo vicino di casa e a tua volta sei osservato e sai che quello che stai facendo verrà raccontato e tramandato e raccontato da qualcun altro ma le figure archetipiche i personaggi sono molto più facilmente distinguibili perché ciascuno di loro diventa la somma di una serie di caratteristiche di abitudini o di attitudini nelle quali tu riconosci qualcuno per arrivare a Morsi al mio romanzo quello che mi interessava raccontare è una cosa che tu hai perfettamente messo a fuoco cioè che cosa significava essere quello che noi adesso chiameremmo preadolescenti che negli anni 90 forse non era ancora così linguisticamente riconosciuto ma poi di fatto c'era perché c'è sempre stato cioè il crinale il limitare fra due età molto precise cioè il non riconoscersi il non essere o l'appartenere ancora troppo all'infanzia e il cercare di capire che cosa significa essere adolescente e quindi affacciarsi all'età adulta la storia raccontata in morsi quella di Sonia e Teo questi due personaggi a cui sono legatissimo e poi a Teo ho dato alcune caratteristiche più voraci anche più se vuoi simpatiche o più empatiche mentre Sonia e prima hai detto una cosa che mi ha colpito cioè il fatto che nel brano che ha letto Lucrezia questa cosa veniva evidenziata era più matura della sua età perché tutti quei ragazzini lì tutti noi eravamo considerati no? non proprio dei piccoli geni ma con un tipo di proiezione mentre adesso è sopra avanzata questa cosa quindi come se avesse fatto il giro e loro due Sonia e Teo sono complementari in un certo senso devono trovarsi a stringere un patto di amicizia perché io penso che poi Morsi sia anche una storia in cui l'amicizia coatta arriva perché devi stringere un patto di fiducia con la persona per te più distante Teo è il ragazzino figlio di contadini che a malapena riesce ad esprimersi in italiano io mi ricordo molto bene che quando facevo le scuole medie c'erano dei miei coetanei che stentavano a parlare in italiano perché avevano imparato in famiglia il dialetto che per loro era la lingua madre e dovevano trovare dopo le scuole elementari un sistema linguistico per esprimersi e c'erano quelli che io poi mi annoverò fra questi altri ma non per scelta ma semplicemente perché stavo lì fra quelli che invece avevano l'italiano come prima lingua sembrava a me e a loro impossibile che qualcun altro si esprimesse in un contesto linguistico che era molto più radicato ma molto più distante e quindi la contraposizione fra Sonia e Teo è quella se vuoi anche un po' manichè facilmente suddivisibile fra chi abitando nello stesso contesto Sonia immagina prova a proiettarsi in un altrove in un contesto estraneo diverso per provare a crescere perché dice boh io studiando forse ce la posso fare vedo davanti a me un tipo di futuro e chi invece dice non mi interessa studiare vorrei lavorare le tradizioni che mi hanno trasmesso i miei genitori sono quelle della fatica del lavoro del gestire le mucche del gestire i maiali del provare a riconoscere in questa forza lavoro un tipo di riconoscimento molto vicino a un'identità che mi rappresenta in quanto tradizione e voglio restare qua lì in mezzo adesso concludo c'è la fine degli anni 90 cioè uno degli ultimi frammenti post-adolescenza di vita in cui nel romanzo un po' questa cosa provo a tematizzarla anche soltanto per motivi legati alla tecnologia nel romanzo soltanto alla fine del romanzo compare un telefono cellulare come se fosse una cosa esotica e l'avere una comunicazione diretta con il mondo fuori è considerata qualcosa che può salvarti altrettanto può essere un discorso più complesso rispetto al quale i protagonisti nel mio romanzo di questa storia non hanno gli strumenti per decodificare dove stanno andando e quindi mi interessava molto indagare quella fetta lì che non è soltanto la linea d'ombra del passaggio di queste due età ma è come tutte le età del mondo un passaggio irripetibile ed è ripetibile nel nostro caso perché ha portato poi a quello che siamo diventati e che sono i ragazzini di 12-13 anni adesso che sono diversissimi e inconfrontabili con quelli che racconto in Morsi allora la cosa che ho notato lungo tutto visto che non possiamo stare troppo nella storia ma cerchiamo quindi i macro temi e i micro dettagli che ci riconducono ai macro temi una cosa che io ho notato tantissimo che mi ha fatto pensare è che i bambini i ragazzini sono improduttivi e questa è una cosa che insomma io mi ricordo hai acceso questo ricordo forse la grande differenza tra come siamo stati i bambini noi e quella che è stata la nostra infanzia forse io dico sempre l'ultima infanzia spensierata del mondo e invece quella di oggi è il fatto che si poteva essere appunto bambini senza strumenti che ti facevano che facevano sottolineare quanto potevi essere bravo e quanto si poteva monetizzare come dice la canzone di alcuni romani bravi però è vero che era un'infanzia libera da quel tipo di pressione e in provincia lo era particolarmente allora ti chiedo questa è semplicemente un'osservazione così rispetto all'irripetibilità che dicevi ma visto che tu hai fermato un modo in cui si è stati bambini volevo chiederti come si lavora su un materiale così vicino ma così distante soprattutto alla nostra età com'è l'infanzia e la inventi o la ricordi perché sono io non sono così convinta che memoria e invenzione siano davvero così simili o comunque c'è sicuramente una sinergia ma una sinergia complicata allora visto che questo è un romanzo che ha almeno un'ambientazione autobiografica sulla storia poi è bene non tirarlo troppo fuori volevo sapere questo perché mi interessa proprio tantissimo come lavoro autoriale sicuramente entrambe le cose cioè la inventi e la ricordi nel senso nel momento in cui la stai ricordando la stai inventando come accade per qualsiasi tipo di 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 esperienza che che hai affrontato questa cosa a cui ti sei ricollegata dell'ultimo come l'hai definita l'ultimo tipo di infanzia improduttiva è molto è molto affascinante io io ragiono tantissimo su un tema che che mi appartiene che penso mi apparterrà per lunghissimo tempo che è quello in qualche forma della perdita e della perdita in un modo però non improduttivo ma produttivo nel senso che quando noi ragioniamo su qualunque soglia un personaggio o noi stessi stiamo affrontando la soglia molto spesso ha a che fare con un cambiamento e se il cambiamento ha a che fare con la perdita la perdita viene in maniera quasi automatica associata a qualcosa di negativo perché se stai perdendo qualcosa vuol dire che stai cambiando ma stai rinunciando a qualcosa quello che tu dici si ricollega con un passaggio infinitesimale minuscolo che veramente a cui non stavo pensando il mio romanzo ma te lo dico proprio per restituirti la mentalità contadina a cui sono andato ad attingere per raccontare in morsi e che stando con un punto di vista in terza persona molto vicino a quello di Sonia e raccontando i suoi pensieri e raccontando il suo rapporto con la nonna perché poi nel mio romanzo c'è molto la trasmissione di saperi cioè il fatto che a un certo punto come succede spesso nelle comunità contadine o comunque nelle comunità più ristrette che non hanno contaminazione con l'esterno i grandi vecchi sono quelli che per eccellenza sono i depositari del sapere ma i depositari del sapere sono quelli a cui tu vuoi attingere davvero perché conoscere qualcosa ti aggiunge esperienza oppure sei spaventato perché conoscere qualcosa significa rinunciare a qualcos'altro e quindi mi ricollego la perdita è qualcosa che ti fa rinunciare a un elemento a cui tenevi oppure quell'elemento che tu perdi come una lucertola che smarisce la coda ti permette di avanzare di acquisire qualcos'altro e per dirti nel romanzo a un certo punto racconto del fatto che sogna trascorrendo questi inverni soprattutto a casa di questa nonna vedova arcigna che che non ama il contatto fisico così diamo anche qualche elemento di trama che non ama il contatto fisico che che si prende cura della nipote che è la figlia di sua figlia ma tiene una distanza quasi di sicurezza perché non vuole troppo contaminarsi con questa infanzia come se fosse una forma infettiva di qualcosa che le ha infastidisce e la nipote avverte questa cosa come tutti i ragazzini che sentono con un stesso senso che c'è qualcosa che va o che non va rispetto agli adulti ha un pollario dove ci sono queste galline galline che lei che per lei sono galline e sono animali che producono uova e che poi se va bene magari le cucino in brodo o se va male tiri il collo e ne prendi un'altra e per Sonia questa cosa è insostenibile perché per lei sono esseri viventi a cui prova a dare un'identità e quindi segretamente le battezza le chiama per nome dice questa si chiama Stella quella si chiama Berenice quella si chiama in un altro modo e sono instaurano un certo tipo di rapporto però le galline sono galline perché producono quando tu hai detto improduttive ho pensato al fatto che Sonia ha semplicemente perché in quella zona di terreno l'ha eletto il suo quartiere generale ha un animale che è l'archetipo dell'improduttività e dell'inutilità contadina una tartaruga che te ne fai da una tartaruga certo puoi cucinare anche quella volendo però c'è chi c'è chi lo fa ci sono brodi di tartaruga l'ottimo brodo che non ha mai assaggiato ma immagino però non nada dice beh questa non fa uova non è come un cane che ti controlla che me ne faccio c'è sto guscio è pure lenta ecco l'infanzia l'adolescenza di quegli anni lì quel tipo di improduttività è però un'occasione torno su un aggettivo appunto irripetibile per poter raccontare qualcosa che ha a che fare almeno per quanto mi riguarda con con la perdita alla fine Morsi di cosa parla parla di due ragazzini che si trovano a fronteggiare una minaccia molto più grande di loro e non soltanto nell'alleanza cercano una strada per trovare la salvezza e trovare se stessi ma in quel contesto capiscono fin dove arriva il loro coraggio e il coraggio è quella cosa che succede soltanto quando si è minacciato e per quanto mi riguarda non ci sono prove quando si ha quell'età più forti del trovarsi a avere a che fare con se stessi nel momento in cui il corpo cambia in cui la voce si sta modificando in cui spuntano forme strane nel corpo in cui spuntano dei peli in cui questa metamorfosi ti porta a diventare la persona che diventerai che sei destinato a diventare ma che sei terrorizzato ad abbracciare e se però stai raggiungendo quello vuol dire che stai runciando a qualcos'altro i protagonisti di Morsi così come mi era capitato di raccontare nel mio precedente romanzo perdono una parte di sé per conquistare qualcos'altro quella conquista è qualcosa che spaventa ma che le fa diventare se stessa tutto tondo allora l'azione che fa tutto questo che hai appena raccontato che è la metamorfosi dell'evoluzione quindi non è propriamente una perdita è un movimento in avanti è il morso giusto allora siccome tu adesso mi hai impedito praticamente mi hai embargato tutto e quindi io non so che cosa posso dire al nostro pubblico quindi adesso fra poco farei leggere Lucrezia la parte così almeno ci salva tu intanto vieni per piacere ma no perché io vorrei dire delle cose sui Morsi non le posso dire perché altrimenti faccio spoiler no invece vorrei che fossi tu visto che tu hai più controllo di quello che vuoi che si sappia o non si sappia che dicessi poi simbolicamente che cos'è il morso che tipo di azione è in questo romanzo perché credo sia centrale sia proprio anche il ritmo della storia e abbia il senso di tutto è proprio l'azione di mordere che non è affatto un'azione che cancella il tempo della sua lettura per rispondere così organizzo una domanda a senso grazie fu allora che Sonia decise di domandare a Teo quello a cui pensava da settimane ciò di cui gli adulti si rifiutavano di parlare senti gli disse ma tu per caso sai cosa ha fatto davvero la professoressa Cardone a quella classe nei giorni dopo l'incidente nonna Ada quando veniva trasmesso il telegiornale che lei si ostinava a chiamare radiogiornale aveva proibito a Sonia di guardare la televisione in casa della nonna poi i quotidiani non transitavano al massimo qualche numero di confidenze e intimità persino i suoi genitori si erano dimostrati evasivi quando Sonia aveva insistito per ottenere una ricostruzione dei fatti Teo la guardò dritto negli occhi più incredulo che spaventato come poteva pensare di parlarne lì davanti a tutti era forse mattita nessuno però quanto sembrava le aveva badato sì ha mise con voce incerta dopo aver gettato uno sguardo intorno sì ribadì anche i suoi baffetti da topo erano percorsi da un leggero tremito e attaccò a raccontare la mattina in cui sarebbe accaduto l'incidente la professoressa Andreina Cardone aveva parcheggiato come sempre la sua panda verde bottiglia nella piazza del comune aveva percorso i pochi metri che la separavano dalla scuola calcando bene i tacchi sui sanpietrini quando quegli stessi tacchi rimbombavano ritmicamente lungo i corridoi dell'istituto comprensivo statale Luigi Perona di Lanzo avevano il potere di creare il vuoto intorno quel giorno sotto un pellicciotto spelacchiato la professoressa indossava un tagliere con giacca beige che era stato forse elegante molto prima che nascessero i suoi studenti il corpo flaccido e pesante un puciu di capelli grigio al centro del cranio raggiungeva il suo posto di lavoro con l'indole di chi sta andando a riscuotere ciò che le aspetta erano di sua competenza le prime due ore di italiano della seconda media sezione B la settimana prima la professoressa aveva avvisato gli studenti lunedì ci sarebbe stato il compito in classe però quando la cardona era entrata in aula alle 8 e 30 spaccate aveva trovato ad attenderla una spiacevole sorpresa la classe era decimata chi aveva accusato improvvisi mal di pancia e febbre chi si era rifugiato al bar della stazione raccogliendosi intorno ai videogiochi chi aveva deciso di trascorrere la mattinata fumando le prime sigarette per le quintane di lanzo a quel punto Sonia si vide costretta a intervenire si ricordava Teo della sua amica Katia Russo quella con gli occhialoni sì Teo se ne ricordava ebbene gli spiegò anche Katia il cui rendimento scolastico non era mai stato eccelso quel giorno era rimasta a casa per via del compito in classe aveva ottenuto chissà come dalla madre di non essere mandata a scuola ecco il motivo per cui Sonia forse l'unica a quell'unidì a risultare assente e giustificata per via della febbre non era riuscita a recuperare informazioni di prima mano sull'accaduto del resto lei frequentava l'altra sezione Teo acquisì con cortesia gli inutili dettagli forniti da Sonia e con fermezza la pregò di lasciargli proseguire il racconto ora iniziava infatti la parte terribile disse quella che fa più sgiai è bello perché ci sono anche le parole in piemontese che io ho fatto un po' di fatica a orientarmi quindi ora non fare questa parte no è vero va bene sapevamo solo Picciu ma infatti era Pucciu quello che lei ha letto scusate tra Picciu e Pucciu c'è un abisso te lo assicuro io mi scuso però insomma io sono di Matera non è che va così te lo concediamo senza entrare nei dettagli no grazie anzi Lucrezia per la lettura adesso tocca a me risponderti quella quella parte dei morsi cioè il fatto insomma il titolo che ho scelto per questo libro e su cui poi abbiamo ragionato con con Bonpiani ha certamente a che fare con una cosa che che accade dentro il libro poi tu mi dici che hai avuto l'embargo quindi l'hai avuto anche da me quindi ci mancherebbe però però ha strettamente a che fare anche con quello che 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 accade come proiezione di questo tempo nel nostro presente nel senso che poi i morsi il cannibalizzarsi il il divorare se stessi il ragionare sul sul fatto che se si ci si prende a morsi ci si ci si nutre di se stessi negli anni 90 forse era ancora molto meno chiaro ma adesso è molto più chiaro cioè siamo tutti persone che si nutrono di noi stessi adesso ora l'ho detto quindi vale tutto però non volevo dirlo così in modo schietto però mi è venuto è colpa tua però è uscito fuori così no ma davvero nel senso che cioè se usciamo dalla metafora dalla cosa e questo uno non l'unico uno dei temi io volevo ragionare su quegli anni lì perché erano anni a cui tenevo l'ambientazione i personaggi vale tutto però il tempo in cui viviamo ha molto a che fare con il 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 piluccare su di sé il il andare a cercare all'interno di una cosa che non necessariamente ha a che fare poi con con un egocentrismo ma proprio solo con un'abitudine per cui siamo abituati a cercare nella nostra carne in quello che sono i nostri ricordi in quello che sono una parte di noi quello che noi vogliamo proiettare all'esterno verso gli altri ti soddisfa? Sì ma non completamente lo sapevo ovviamente no perché se io penso a una persona che si morde vale tutto quello che dici tu però vale anche un'altra cosa che secondo me è la trama del libro è la storia del libro e cioè è un atto di autoconservazione e anche di grande avarizia cioè tu capisci che il tuo tempo è finito per me questa cosa qua è la metafora dell'Italia nel senso ah wow questa la prendo la porto a casa aspetta aspetta quando si dice metafora è sempre terribile anche Italia è terribile Italia è terribile però qua stiamo no ma no però perché non perché non c'è lo scambio generazionale perché ce ne è sempre ci sono sempre quelli davanti che si ha di vecchi e di bambini di vecchi e bambini non ci sono l'età di mezzo non c'è esattamente esattamente quindi il vecchio che capisce che deve dare una testimonianza ed anzi testimonianza cioè proprio passare il testimone non lo dà e preferisce prendersi a morsi perché così si auto elimina certo si alimenta di se stesso però non dà niente di se ho sbagliato va bene ok scusate va bene così va bene sono d'accordo perfetto ed è interessante il fatto che non ci sia non ci sia l'età di mezzo perché è la premonizione del nostro tempo invece io pensavo molto ai peanuts se tu hai presente ai peanuts no aspetta aspetta loro stanno lì io pensavo alla trappa comunque no vabbè ognuno può pensare ai riferimenti che ha a disposizione io ho questi io i miei sono trementi no però se pensi ai peanuts o al Muppet Show ma soprattutto ai peanuts gli adulti non ci sono mai cioè la telecamera è ripresa a un certo punto a una certa altezza quello che accade sopra cioè si accade però non è così influente su in realtà lo è davvero perché poi dopo tutto quello che manca in quella assenza narrativa è lo scarto che tu lettore colmi mettendo la tua intelligenza a disposizione di poi si pensa a Trump va bene cioè non lo so però io mi fermerei qua perché mi porti in territori che non no invece hai detto una cosa che è sempre la mia ossessione quando parlo con uno scrittore mi interessa sempre sapere che cosa ha lasciato fuori cioè il mio sogno vero è entrare a casa di tutti gli scrittori scartabellare nel nel cestino io penso in maniera ottocentesca quindi immagino che ci sia proprio un cestino comunque scrivi anche tu e scrivi anche narrativa non è che adesso fai questa parte io non scrivo narrativa vabbè parliamo no vabbè no non scrivo no e grazie a Dio e cioè no nel senso non c'è bisogno di però volevo metterti a disagio eh? volevo metterti a disagio no infatti adesso è terribile c'è del vino lì no mi interessa tantissimo sapere che cosa che cosa hai tolto visto che poi tra l'altro per me è molto affascinante il fatto che tu faccia questi due lavori e quindi sai il tuo mestiere principale inibisce poi la scrittura perché tu ne sai fin troppo o no è come che sia questo però è un'altra cosa che cosa hai tolto c'è il quaderno delle cose che hai tolto? allora questa cosa è sempre molto efficace che te la sparo lì così così mi tolgo un po' dall'imbarazzo che diceva Stephen King che lui dice che nella sua testa nella sua cartella mentale ci sono una serie di input che arrivano e poi c'è un gestino dove si depositano le cose che lui non scrive o gli elementi che lui non mette e poi si accorge che alcune cose sono attecchiscono veramente come una pianta come un qualcosa di parassitario nella sua testa perché stanno lì e non escono mai dalla sua testa e sa che quello a un certo punto ne vuole scrivere perché deve liberarsi e questa è una parte l'altra parte è quella del cestino in cui le cose si autodistruggono lentamente in cui spariscono e vanno in un certa cosa senza entrare nel mio lavoro perché poi io penso sempre che davvero il medico non può operare se stesso il chirurgo è incapace di e quindi ogni editor ha bisogno di un editor e va benissimo quello che quello che forse è rimasto fuori da da questo libro quello che che forse non è neanche scritto ma perché ma non per eccesso di consapevolezza ma perché non mi interessava esplorare era tutta una parte di di sofferenza e di dolore che avevo già esperito con l'altro libro io abbiamo iniziato la nostra chiacchierata parlando di invenzione della madre non volevo chiuderla con questo però te lo voglio dire lo stesso con quel libro là avevo affrontato una serie di sentieri che riguardavano strettamente una serie di esperienze personali e che ho provato a organizzare in una maniera narrativa con questo libro forse mi sono reso conto che avevo ancora alcuni aspetti da affrontare su quel tema però un po' per stanchezza ma anche un po' per noia mia proprio di mettermi a confronto non volevo tornare nello stesso modo nella stessa prospettiva ma per un motivo molto semplice perché nel frattempo ero diventato un'altra persona e ho pensato che questa cosa poteva affrontarla diversamente quando ho capito che Sonia e Teo sarebbero stati i protagonisti del mio libro e che il prendersi a morsi poteva essere la metafora di quello che vuoi ma aveva a che fare strettamente con l'infanzia che avevo attraversato con un altro passaggio di linea d'ombra e che avrebbe detto molte cose sul me che sono adesso molto più che se io avessi raccontato con un io la vicinanza di alcune cose mi sono detto che se avessi lasciato da parte un certo tipo di commozione un certo tipo anche di dolore mi sarei sentito più a mio agio infatti sono molto contento del fatto che tu sei divertita leggendo questo libro perché il divertimento che io ho provato scrivendolo perché poi dopo in mezzo è impassato col dolore è impassato con tante cose ma c'è anche molto divertimento è una libertà di guardare alle cose con un distacco che fino a qualche tempo fa non avrei avuto ma semplicemente proprio come strumento culturale e di scrittore perché non pensavo di affinarlo in quel modo mi fa molto piacere cioè che tu ti sia divertita è un complimento bellissimo sono molto notoridi ma sono veramente contento perché dentro al di là della facile ironia di alcuni passaggi eccetera c'è un tipo di entusiasmo nel raccontare qualcosa che ha a che fare strettamente con te ma con quel tipo di distacco che ti permette di usare i tuoi personaggi per raccontare tante altre cose e dirti io sono tutti quanti loro e loro sono me e a me questa cosa sta bene non lo so se ti hai detto una cosa sensata o tutta la risposta certo credo che sia il libro di un autore che ha risolto una parte cioè che ha risolto il materiale di vita su cui lavora infatti dopo basta volevo dirtelo lo dico adesso no invece no sai prima hai citato Stephen King ed è bizzarro perché il libro che ho avuto in mente in alcuni tratti è proprio leggendoti è proprio uno di Stephen King ed è la bambina che amava Tom Gordon perché perché c'è una bambina protagonista innanzitutto che è la più saggia la più intelligente di tutti e che combatte contro qualcosa che non si capisce che cos'è cioè lei passa c'è questo mostro che può essere che non vede mai che non è nient'altro che la paura no ed è interessante perché lei lo sfida lei sfida questa cosa va avanti e c'è una cosa nel tuo un grande assente nel tuo romanzo che è proprio la paura cioè questi due bambini non hanno mai paura e ti chiedo perché 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 io poi questa cosa l'ho chiesta a me stessa negli anni 90 avevamo paura quando eravamo bambini ed effettivamente no e non avevamo paura perché almeno insomma io la mia banale formazione borghese era è stata la formazione di una alla quale è stato detto farai queste cose e otterrai farai x e otterrai y no è stato quindi non c'era niente che poteva sfuggire era la fine della storia eravamo certi di questo poi invece si è tutto frantumato e il rumore di quello che si è frantumato in questo romanzo si sente e si avverte però non c'è la paura per concludere c'è un solo elemento culturale dentro questo libro che accade a un certo punto ed è un eco che arriva da lontano nel momento in cui in questo inverno del 96 accade questa nevicata questa grande nevicata a Lanzo eccetera si parla di questo vento che tra l'altro è un vento di cui si è riparlato negli ultimi anni che è il Buran il Buran è questo vento siberiano che arriva che soffia che porta una serie di cose io mi ricordo molto bene questa cosa l'ho scritta nel libro ma poi sono andato anche a rivedermi quando stavo scrivendo alcuni telegiornali dell'epoca questa cosa veniva stranamente associata ma solo per associazione proprio culturale con Chernobyl cioè quell'evento lì Chernobyl e io mi ricordo molto bene di questi ragazzini di questi bambini che venivano affidati a delle famiglie più o meno benestanti che però arrivano da lontano per cui a loro si dava la possibilità di avere uno spazio neutro il più possibile pulito dal punto di vista proprio ambientale per cui si davano sei mesi nove mesi come se questo facesse la differenza ad abitare in Italia anche nelle Valle di Lanzo e altrove nel mondo per poter trovare un'altra cosa nel romanzo precipita e cade come un eco di qualcosa che è una minaccia lontana che però è l'unico elemento di cui avere paura sono particolarmente contento Simonetta che tu mi dica che secondo te questi personaggi questi due ragazzini a cui voglio molto molto bene ma non soltanto perché mi sento molto vicino a loro perché Sogna la sono totalmente io senti che non hanno paura perché di fatto quel tipo di esperienza in cui il cuore veniva buttato oltre l'ostacolo in un modo rispetto al quale anche un po' incosciente non si capiva non si sapeva quello che c'era al di là di quel muro al di là di quel recinto che racconto nel libro ti permetteva di agire quindi boh quindi quindi e quindi chiamiamo chiamiamo Lucrezia così abbiamo finito grazie bravo allora do delle grazie innanzitutto e a te in bocca al lupo perché inizia l'avventura adesso crepi diciamo anche che questo è anche un libro pieno di avventura per quello che è divertente e viva Dio ogni tanto i libri sono anche avventura io sono felice di questo no do delle indicazioni pratiche perché c'è il firmacopie in galleria alla fine della presentazione per chi ha voglia firmacopie con autore io ringrazio intanto già tutti così almeno lasciamo a Lucrezia la cosa ringrazio il circolo del lettore per l'ospitalità ringrazio Bompiani che ha permesso che questo libro da oggi fosse nel mondo e qua ci sono i miei editori e ringrazio Simonetta Shandivashi che mi ha accompagnato nel battesimo ringrazio Lucrezia Forni che ha letto e ringrazio tutti voi e basta insomma sono molto felice votatemi finché arrivò sabato la radio sveglia accanto a lei segnava le 12 e 28 Sonia udì i passi della nonna salire ad agio le scale a sbalzo che collegavano i due piani della casa e il suo cuore prese a battere più forte aveva pensato tutta la notte a cosa fosse meglio fare fino a quando le erano tornate in mente le trappole per catturare le faine con cura aveva valutato i pro e i contro del gesto che intendeva compiere e si era detta che quella era un'emergenza agiva fin di bene il suo i passi si fecero più vicini per poi fermarsi davanti alla porta a soffietto immaginò nonna ad appoggiare il vassoio colmo di cibo sul comodino che era stato del marito ed estrarre la chiave quando senti scattare il lucchetto strinse appena agli occhi la nonna stava riafferrando il vassoio e si apprestava ad entrare nel momento in cui la porta si aprì scorrendo lungo le guide Sonia pensò che se le avesse voluto c'era ancora modo di evitare la catastrofe ma durò solo un istante nonna Ada mise un piede davanti all'altro poi la caviglia destra incontrò un ostacolo forse se non avesse avuto entrambe le mani impegnate i riflessi sarebbero stati abbastanza buoni da tutire in qualche modo la caduta invece la vecchia rovinò per terra senza mettere un lamento finendo di faccia sul parquet il corpo rimandò il suono di un ramo secco che si spezza il vassoio compì una breve parabola nell'aria la tazza colma di latte si frantumò in decine di cocci mentre la zuppa di piselli finì contro la console imbrantando di verde i gagliardetti del toro di nonno Delio Sonia scattò sulle ginocchia indecisa se aiutare la nonna li distesa sul pavimento o se fuggire il riflesso di se stessa nei vetri della finestra la faccia pallida gli occhi scavati la convinse a tenere fede al suo piano l'importante adesso era riconquistare la libertà richiuse la porta ma la chiave del lucchetto non era nella serratura probabilmente si trovava nella tasca del grombiore di nonna Ada in apparenza svenuta Sonia aveva imparato dai film che quello è il momento peggiore quando credi che il nemico sia inoffensivo e invece non aspetta altro che tu ti avvicini per allungare una mano e afferrarti non ebbe il coraggio di verificare alcunché pochi secondi dopo stava correndo scalza giù per le scale come un animale braccato in cucina leggiava il profumo della zuppa di piselli a parte quello la situazione sembrava normale afferrò la sua giacca a vento appesa alla mantelliera infilò gli scarponcini e fece per uscire in cortile però la porta d'ingresso era chiusa ricacciò indietro le lacrime non c'era tempo per disperarsi al piano di sopra non nada si sarebbe alzata da terra magari ci avrebbe impiegato un po' ma una volta che l'avesse raggiunta non si sarebbe più limitata a metterla in punizione e se anche le chiavi di casa fossero state addosso alla vecchia da qualche parte c'era un mazzo di riserva portò le mani sulle tempie e si tirò i capelli fino a farsi male si voltò a destra e a sinistra nella speranza che magicamente il mazzo apparisse pensa Sonia pensa e venne esaudita erano sulla tovaglia rombi sopra il tavolo al centro della stanza per un attimo rimasi immobile a contemplare il mazzo incredula poi sentì qualcosa sciogliersi dentro di lei un senso di gratitudine finalmente pianse di gioia quello si convinse era il più bel regalo di Natale che potesse ricevere ma si sbagliava perché la casa di Via Loreto 143 l'aveva protetta fino a quel momento da ciò che stava cadendo fuori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti